Ornella adesso non ho tempo, ma prenda quello che vuole, faccia la spesa, tanto compra solo quelle che le piace a lei. No, il cotecchino mi fa schifo Ornella, sto andando a lavorare, ora non è il momento, per cortesia. Sì, sto andando a fare una cosa, Morgana la conosce? La conosce? Ma come mai la conosce? Era perché informata, non pensava, aspetti che devo guardare la strada, via Arden, sì, 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 sì con le murge, sì. Sì, certo che è intelligente, certo. Perché sono cretina io, scusi? Io sto un po' in ansia, eh, ti dico la verità. Secondo te ho esagerato io. Cioè, comunque è sobria, è solo... No, sobria no, c'è un sacco di cose, luminoso e come dire colorato, ma sobria no. C'è un po' paura che andiamo bene, no? Allora, sono un intellettuale, sono una scrittrice, sono tradotta in 30 lingue, non mi posso mettere in sudditanza psicologica nei confronti di una donna solamente perché è così... Aristocratica? Sì. Elegante? Sì. Bella? Ho l'impressione di star incontrando Lady Mary Crowley. Sono una caffona, forse. Disinvoltura. Eccomi! Buongiorno! Ciao bambine, come state? sì ma ti conosco tesoro carino vi conosco tutte e due carino ti sei fatto mancato di niente colorino di scritto come state bene 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 tranquille sono palida forse proprio riflette la mia luce tutta salute di fare un po di salute così guarda meglio il ministero della salute ne dovrei mettere un po anche io oddio sono haidi vedere il sì tesoro metti qualcosa si fa qualcosa allora come state bene 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 da quando sei arrivata tu adesso mi è venuta proprio una botta di vita no io non so il meglio di harry potter che non so chi mi piace di più io trovo molto sexy agrid è stupendo con le uova di drago no io a me piacciono a me piacciono gli uomini enormi quindi a me piace agride mi piace la casa c'è un interior decorator molto elegante si gli animali domestici animali domestici è uno carino è uno che ha cuore non è proprio il mio tipo e qual è il tuo tipo scusa intanto è troppo vecchio per me sopra i 30 e solo amicizia ti piace così ti piace la ciccina fresca diciamo che i fratelli di ron non è che mi piacciono però tutti e due insieme adesso non farmi dire cose che mia madre non potrebbe ascoltare in pubblico però scusami ai due gemelli a disposizione usarne una cazzata vecchia volpe ok questo divina davvero posso tenerlo no allora io vado da dove vado in platea va bene ti aspetto la città sedere divertitemi ti chiamiamo dopo sì 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 a dopo ciao 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 carine ciao un disastro un disastro signore signori sta per avere inizio morgana con michela murgia e chiara tagliaferri storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con buddy bank non ho mai dormito in un sottoscala non so parlare serpentese sono una babbana e non sono mai stata la predestinata di niente eppure io sono harry potter perché conosco la sua solitudine so cosa vuol dire non vedere niente io poi gli occhiali non mi metto vanità almeno un paio di volte nella vita ho provato anche io la meravigliosa sensazione di aver sculato massima resa con minima spesa a r accade mille mila volte a me no ma quando è successo è stato bello ecco non è l'eroe che avrei raccontato io quello che non mi piace di eri alla fine è che il maschio cioè avrei voluto sì avrei voluto che avesse il coraggio jk rowling di regalarci una maghetta anziché un maghetto avrei voluto meno ermione granger perfettina e secchiona perché davvero uno stereotipo rispetto a questo maghetto così sarebbe stato rivoluzionario pensa che occasione che abbiamo perso questa ha venduto 500 milioni di libri e c'è l'ennesimo personaggio maschio che ce la fa benvenuti a morgana sono io l'uomo ricco storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi conosciamola meglio dunque la morgana di oggi com'è riuscita una ragazza di 25 anni a tracciare le fondamenta di un mondo che poi abbiamo abitato in tantissimi e tantissime scrivendo una saga che ha venduto 500 milioni di copie e che le ha permesso di essere la prima persona a diventare miliardaria grazie ai suoi libri ci è riuscita aspettando un treno in ritardo noi imprechiamo di solito oppure compriamo trucchi che non ci servivano e lei è diventata una delle donne più influenti e ricca del mondo invece i treni nella vita di joan rowling sono fondamentali innanzitutto perché se i suoi genitori non avessero deciso di prenderne uno per andare in scozia partendo lo stesso giorno e alla stessa ora dalla stazione londinese di king's cross non si sarebbero incontrati e lei non esisterebbe ann e peter hanno entrambi 18 anni quando incappano l'uno nell'altra si innamorano in mezzo a tutto quello sferragliare di rotaie come nei film e si sposano il 31 luglio del 1965 un anno dopo il loro incontro nasce joanne in una scenografia totalmente herri potteriana un villaggetto di 5 mila anime nel glosseshire se si pronuncia così peter lavora come apprendista motorista alla rolls royce anne si occupa di joanne e poi della sua sorellina diane che arriva un paio di anni dopo le piace moltissimo leggere tanto che joanne cresce in mezzo alle storie che la madre le racconta fino a quando le storie decide di scriverle lei la prima a sei anni con un coniglietto superstar e malattissimo di morbillo che si chiama appunto coniglio ha una migliore amica un'ape che per coerenza chiama signora ape joanne legge il racconto alla madre e anne fa quello che faremmo tutti le dice oh che carino è davvero buono mia madre no non l'avrebbe fatto questo e poi se ne dimentica immaginando molte carriere per la figlia ma certo non quella di scrittrice ma joanne non è una tipa che molla facile tanto che racconterà di aver pensato se è davvero così buono perché non lo fai pubblicare aggiungendo che dai tempi di coniglio e signora ape ho sempre voluto diventare una scrittrice sebbene non l'avessi praticamente detto a nessuno avevo paura che mi dicessero che non avevo speranze i traslochi della famiglia tra il gloucestershire e il galles vengono utilizzati da joanne per riempirsi gli occhi delle cattedrali diroccate con i soffitti a volta e giocare con le guglie le torri merlate e i passaggi segreti ogni cosa verrà assorbita masticata e risputata fuori da questa bambina compresi i vicini di casa con cui fa amicizia i figli della famiglia potter michela a winterburg a quattro porte di distanza dalla sua vivono infatti i fratelli potter che lei invidia principalmente per il cognome suona così morbido e divertente mentre il suo di cognome viene continuamente storpiato in roll and pin mattarello e a scuola non è piacevole essere la ragazzina mattarello i potter insieme alla sorellina sono il suo primo pubblico joanne legge per loro storie di diamanti maledetti e faccende magiche piuttosto ingarbugliate in lei già riposa un mondo che popolerà pescando da chi le sta intorno preside compreso quello delle sue scuole elementari pare sia molto figo tanto che albus silente sarà costruito letteralmente su di lui attaccino un paesino nel galles con tanto di castello abbarbicato su una scogliera rowling incontra anche il suo severo spiton che nella realtà è una donna la professoressa morgan racconterà la mia insegnante la signora morgan mi spaventava a morte posizionava tutti nella classe a seconda di quanto intelligenti pensava che fossero i più brillanti sedevano alla sua sinistra e tutti quelli che pensava fossero ottusi sedevano sulla destra io ero quanto più a destra fosse possibile stare senza andare a finire nel cortile mi schiaffò zero in matematica ma alla fine dell'anno ero stata promossa alla seconda fila sulla sinistra perché joanne è una che si spianca sui libri tanto che si ricorda così ero tranquilla lentigginosa miope e una schiappa negli sport a quanto ne so sono l'unica persona che è riuscita a rompersi un braccio giocando a netball la mia materia preferita in assoluto era l'inglese ma mi piacevano anche le lingue straniere raccontavo ai miei amici tranquilli e studiosi come me delle lunghe storie appuntate durante il pranzo di solito ci vedevano tutti compiere azioni eroiche e audaci che non avremmo certo compiuto nella vita reale eravamo tutti troppo secchioni insomma una nerd incostante ansia da prestazione una ermione senza coraggio pazza dei libri di cs lewis e jane austin all'università di exter nel devon joanne studia letteratura francese e filologia ascolta gli smiths legge tolkien e dickens e si specializza in look alla siuxi siu la cantante del gruppo siuxi and the banshees grandi giochi di kajal capelli superpunk e nerissimi molta pelle e colori fluo iniziano i viaggi un anno a parigi dove insegna inglese poi londra dove lavora per amnesty international e arriviamo al 1990 e al treno che joanne per nostra fortuna prende ma prima lo aspetta per quattro ore in questo periodo abita manchester dove fa la segretaria alla camera di commercio tutto serve nella vita pensi di essere finita in un libro di kafka e poi anni dopo ti trovi a utilizzare quella burocrazia asfissiante per spiegare come funziona il ministero della magia di quel periodo ricorda chiunque abbia lavorato con me può dire che sono la persona più disorganizzata della terra e ne vado fiera un giorno mentre aspetta quel treno in ritardo che la deve riportare a londra le viene l'idea di questo ragazzino un po disgraziato un po predestinato che grazie alla magia svolta la sua vita agra nella mia mente era un piccolo orfano alla ricerca della sua identità e allievo di una scuola di maghi racconta capì immediatamente che scrivere questa storia sarebbe stato un vero piacere quella sera quindi rientrando a casa ho fatto l'elenco di tutti i romanzi che avrei scritto dovevano essere sette mi ci sono voluti cinque anni per organizzare tutto il materiale e definire l'intreccio di ogni libro ho scritto una storia quasi completa di tutti i miei personaggi se ci mettessi tutti i particolari ognuno dei miei libri avrebbe le dimensioni dell'enciclopedia britannica per ognuno di loro crea infatti un albero genealogico traccia la sua emotività e persino le allergie alimentari ma tutto questo non sarà mai letto dalla persona che le ha trasmesso l'amore per i libri sua madre sempre nel 1990 ann muore a 45 anni per la sclerosi multipla joanne è devastata dal dolore per questo decide di ricominciare da zero in qualche posto dove ci sia un po di sole attorno a lei sceglie il portogallo rispondendo a un'offerta di lavoro sul guardian e trova impiego come insegnante d'inglese a oporto e assieme al lavoro arriva anche il primo marito in un bar conosce il giornalista televisivo gli org arantes lei vestita come siuxi su lui che assomiglia a joe strammer perfetti no come se non bastasse parlano tutta la sera di jane austin e lei pensa che se il colpo di fulmine ha funzionato per i suoi genitori perché non può funzionare anche per lei e qui cara joanne ci intromettiamo perché l'azzardo del colpo di fulmine che va a finire bene nella storia di una famiglia statisticamente può realizzarsi giusto una volta e poi sinceramente credere a un uomo che ti dice di amare jane austin è difficile davvero alla lunga rendono meglio quelli che si dichiarano da subito estimatori di philip roth io ne so qualcosa comunque tu a 27 anni e nel 1992 lo sposi e noi che a 27 anni facevamo fatica a immaginare anche solo una vacanza con il fidanzato ti riconosciamo comunque un gran coraggio l'anno successivo nasce la figlia jessica che joanne ha chiamato così in onore di una delle sorelle mitford la pecora rossa della famiglia che abbandona blasoni e forchette d'argento per combattere nella guerra civile spagnola con i partigiani jane austin nel frattempo si rivela un collante troppo debole per tenere in piedi un matrimonio che fa schifo soprattutto considerando alcune dichiarazioni rilasciate recentemente da jorge ho schiaffeggiato joanne ma non si è trattato di abusi sistematici non mi sento dispiaciuto e come se non bastasse aggiunge non c'è stata violenza domestica e neanche violenza sessuale non ci sono stati abusi prolungati ci torneremo su jorge ma intanto jk prende la figlia fa fagotto e ricomincia da capo trasferendosi dalla sorella a edimburgo comincia il periodo nerissimo mentre john mayor l'allora primo ministro inglese pronuncia un discorso violentissimo contro le madri single joanne si trova a tentare di sopravvivere con il sussidio di disoccupazione in un appartamento piccolissimo nel quartiere a luci rosse di edimburgo vi è mai capitato di svegliarvi con solo la voglia di piangere come se un dissennatore vi avesse succhiato via ogni felicità joanne si sente così mentre come uno zombie continua a fare tutto quello che può studia per l'abilitazione all'insegnamento si occupa di jessica anche se dirà era una sorpresa ogni mattina vederla ancora viva e intanto chiede un'ordinanza restrittiva contro il marito che la cerca in scozia arriva anche a pensare al suicidio e gli unici momenti in cui sta bene sono quelli in cui si parcheggia all'elephant il pub del cognato per stare un po al caldo mentre jessica dorme nel passeggino tra l'odore di birra e di fumo lei guarda fuori dalle vetrine la george harriott's school un istituto piuttosto gotico e bellissimo perfetto per le lezioni di stregoneria che sta immaginando così in un grande agitarsi di bacchette finisce il primo volume della storia del suo mago depressione e povertà sono state le molle del mio successo dirà molti anni dopo ma per il momento sta ancora battendo a macchina due copie del libro appena terminato harry potter e la pietra filosofale nel 1995 joanne sfoglia le pagine gialle alla ricerca di un agente letterario il primo tentativo va male il manoscritto le viene restituito mentre il secondo agente christopher little che lei ha scelto per il suo cognome che le sembrava così carino accetta di rappresentarla in realtà anche little avrebbe scartato la sua proposta se non fosse stato per una sua collaboratrice brian evans che trova quel mondo un po inquietante molto magico assolutamente irresistibile christopher fa comunque presenta rolling che l'impresa è ardua la lunghezza giusta di un libro per ragazzi è di 40.000 parole e lei gli ha presentato un tomo da 90.000 ma ci prova lo stesso lo invia a 11 casi editrici e riceve 11 rifiuti fino a quando lo chiama il presidente della blonsbury di londra ha fatto leggere i primi cinque capitoli a sua figlia elise che è impazzita in un mondo di uomini che non riconoscono di essere seduti su una miniera d'oro joanne viene salvata da una donna e da una bambina di cinque anni gli uomini si arricchiranno vergognosamente ma rolling ancora di più prima dei soldi a palate però la casa editrice pone una condizione pubblicherà il libro solo se rolling maschererà il suo nome per renderlo senza sesso no gender le viene infatti detto che le scrittrici allontanano i giovani lettori maschi che sono diffidenti nell'acquistare un romanzo di una donna meno male che c'è qualcuno che lo ammette così joanne opta per tenersi la j a cui aggiunge una k che era l'iniziale del nome della nonna e poi jk richiama vagamente j r r tolkien dunque può funzionare la tiratura è bassa e little consiglia a joanne di continuare a cercarsi un lavoro vero perché così non può pensare di campare quello che succede dopo lo sappiamo tutti jk rolling ha venduto centinaia di milioni di libri diventando più ricca della regina elisabetta come c'è riuscita è un mondo salvato dai ragazzini il suo certo ma non è il primo c'è la magia ma quella c'è un po ovunque eppure qui la magia è molto più di qualche formuletta buffa e i suoi sortileggi sono decisamente più strutturati di quanto si possa pensare gli incantesimi sono frutto della mia immaginazione dice rowling ho conosciuto persone che molto seriamente mi hanno detto che li stanno mettendo in pratica e io altrettanto seriamente gli ho detto che non funzionano personalmente ammetto di aver pronunciato almeno un paio di volte nella vita tra il lusco e il brusco una vada che davra la maledizione peggiore che esista nel mondo magico quella di morte sapevo che non avrebbe funzionato ma era il mio modo per mandare al diavolo qualcuno per farlo sparire abracadabra deriva infatti da una frase aramaica e significa creo ciò che dico il potere delle parole di dare forma alle cose mentre abbada che d'abra significa sparisci con questa parola e da qui alla formula preferita di voldemort è un attimo arriviamo al protagonista harry potter decisamente non brilla per acume per empatia forse ma non per intelligenza siamo lontani dai mondi di sherlock holmes c'è sempre il destino di mezzo non il merito o la capacità per questo a michela non piace tanto da solo non esisterebbe senza l'aiuto di ermione appunto o ron o albus sarebbe stecchito al primo incantesimo contro di lui e qui entrano in gioco gli altri personaggi più amati dell'eroe stesso rowling ha dichiarato poco tempo fa harry mi manca molto la cosa interessante è che non è mai stato un personaggio tanto popolare ho visto che in un sondaggio solo il 2 per cento dei lettori preferisce harry ci sono tanti altri ovvi personaggi da amare agrid ron tutti amano ron insomma a chi non piace ron henry è come quei figli che nascono ricchissimi senza aver fatto nulla viene al mondo pieno di magia e diventa il predestinato grazie a un incantesimo d'amore con cui la madre riesce a proteggerlo anche dalla morte eroi per caso eroi suo malgrado tanto che lui tutta quella roba a un certo punto non la vuole più perché riconosce di aver marchiato a fuoco molto più di una cicatrice alla memoria del male quando gli studenti arrivano alla scuola di magia di hogarth il cappello parlante li smista in quattro case a seconda dell'indole grifondoro serpe verde corvo nero e tasso rosso i serpe verde sono le piccole teppe quelli più indomiti ma che giocano sporco harry è terrorizzato di finire lì e in effetti il cappello parlante ha molti dubbi albus silente infatti gli dirà sei finito in grifondoro perché non sono le attitudini che determinano una persona ma sono le scelte e questo rolling sembra esserselo dimenticato un po ma ci arriveremo tra poco harry si porta addosso dunque la responsabilità del bene e la colpa del male e si è inadatto ed è arrabbiato per questo e la rabbia un sentimento che ti salva nella saga un po anche nella vita devo dire sirius black sopravvive alla prigionia nel carcere di azgaban perché odia ed è importante per un ragazzino saperlo sapere che la furia ti è concessa che puoi coltivarla perché ti sarà necessaria per resistere a molte cose nella vita rolling ti dice qualsiasi sentimento proviate vi salverà la vita anche se non saranno sentimenti buoni nulla di edificante molto di educativo perché educa al coraggio delle proprie scelte e poi i cattivi di solito nei libri per bambini i cattivi sono tagliati con l'accetta facilmente individuabili nel loro essere spregevoli privi di fascino mostruosi nel significato letterale del termine qui i malvagi sono anche parecchio fighi intriganti e abilissimi tom riddle cioè lord voldemort da giovane è un milione di volte più interessante di harry potter e se volessimo essere sicuri dell'efficacia di un incantesimo ci affideremo a lui steven king stesso che di male se ne intende ha detto che la temibilissima professoressa umbridge che insegna difesa contro le arti oscure e l'antagonista più riuscita di tutti i tempi dopo hannibal lecter ma veniamo all'elefante nella stanza con i suoi libri rowling ha smantellato pregiudizi di genere e stereotipi sociali per anni è stata un'attiva sostenitrice del mondo lgbt a una fan che non capiva perché non avesse dichiarato che albus silente fosse omosessuale lei ha risposto con un tweet forse perché le persone gay sono semplicemente persone in animali fantastici i crimini di grindelwald il secondo capitolo cinematografico dello spin off della saga vediamo un silente giovanissimo e innamoratissimo di galler grindelwald e rowling racconta la loro relazione era incredibilmente intensa appassionata una vera storia d'amore come accade in ogni relazione che sia gay o etero o di qualsiasi altro genere quello che è successo è che non si sapeva veramente cosa provasse l'altra persona non puoi davvero sapere puoi credere di sapere sono affermazioni potenti capaci di spostare il pensiero di milioni di persone nel mondo harry potter finisce in copertina sul time jk vince più di una volta il titolo di autore dell'anno della english bookseller association con questa motivazione jk rowling è riuscita a superare la barriera che impedisce a un'opera per ragazzi di raggiungere un riconoscimento pari a quello tributato agli autori per adulti riceve anche due lauree onoris causa per aver contribuito con i suoi libri a fare del mondo un posto migliore nel 2001 la regina elisabetta le conferisce la massima onoreficenza di cavaliere dell'ordine dell'impero britannico per servizi resi alla letteratura sempre nello stesso anno joan partecipa a un'altra cerimonia che la vede protagonista il suo matrimonio con il marri bassista hard rock e heavy metal qui salta fuori la sioux xissu che è in lei arrivano una sorella e un fratello per jessica che noi immaginiamo come bambini con le migliori storie della buonanotte del mondo nel 2011 rowling viene inserita da forbes nella classifica delle donne più ricche del regno unito i sette volumi di harry potter pubblicati dal 1997 al 2007 sono stati tradotti in un'ottantina di lingue latino e greco antico compresi vendendo oltre 500 milioni di copie nel mondo primato assoluto per una saga è stato calcolato che il settimo e ultimo capitolo della serie harry potter e i doni della morte il libro più venduto nella storia dell'editoria ha venduto 20 copie al secondo in gran bretagna per un totale di 11 milioni di copie solo nelle prime 24 ore mentre i film e il merchandising hanno creato un brand che vale 25 miliardi di dollari sono cifre da capogiro ora ho più soldi di quanto avrei mai sognato ho convissuto per molto tempo con la preoccupazione per il denaro come se fosse una persona che abitava con me dice ora jk che a differenza di quanto faremmo noi pronte a spendere cifre blu in chimoni e meravigliosi oggettini inutili e parca nelle sue spese personali racconta che la cosa più preziosa da lei posseduta è una rarissima prima edizione di un romanzo di jane austen insiste nonostante tutto e che una volta acquistato un paio di orecchini decisamente costosi sentendosi però subito in colpa per questo ha fatto immediatamente una donazione per la cifra equivalente in beneficenza sembra cattolica eppure non lo è hai una responsabilità morale quando ti è stato dato più di quanto tu non abbia bisogno devi farci cose sagge e donare in modo intelligente racconta per questo ha creato un fondo fiduciario che gestisce le donazioni che fa e ne fa davvero tantissime per svariate centinaia di milioni di sterline è presidente della national council for one parent families un'associazione che si occupa dei genitori che si trovano in mancanza del partner a capo di una famiglia e aiuta la ricerca scientifica nella lotta contro la sclerosi multipla se qualcuno mi chiedesse la ricetta della felicità il primo passo sarebbe scoprire quello che ti piace fare più di ogni altra cosa al mondo e il secondo trovare qualcuno che ti paghi per farlo mi considero davvero molto fortunata ma come se la cavata senza ogarts e senza magia jk rowling nel 2012 esce il suo primo libro per adulti il seggio vacante e succede quello che spesso accade quando tutti aspettano che arrivi il miracolo il miracolo non arriva la montagna partorisce un topolino e si fa finta di niente arrivano poi i romanzi pubblicati sotto lo pseudonimo di robert galbraith in cui rowling traccia la storia dell'investigatore privato cormoran strike ottiene recensioni piuttosto buone ma niente di epico accade fino a quando il sunday times svela la vera identità di chi si cela dietro questo autore esordiente e su amazon le vendite del libro schizzano del 500 mila per cento all'istante il quinto romanzo sulle avventure di cormoran strike è uscito nel 2020 con parecchie polemiche perché da femminista attivista paladina dei diritti delle donne e lgbt rowling in questi ultimi anni sembra essere diventata una transfobica com'è possibile proviamo a riannodare i fili e cominciamo dall'inizio terf è l'acronimo di trans exclusionary radical feminist cioè quella corrente del femminismo che ritiene che le donne trans non possano essere considerate donne e rowling a colpi di tweet sempre più tranchant sembra essersi guadagnata sul campo il titolo di terf distruggendo tutto l'incredibile lavoro fatto negli anni prima di mettere cuoricini a casaccio si sa è meglio pensarci perché sei più di 14 milioni di persone che ti seguono un tuo mi piace a chi scrive che le donne trans sono uomini con la gonna scatena un casino e i tuoi avvocati possono anche dire che sei una donna di mezza età alle prese con la tecnologia che fa pasticci e ti è partito un like per sbaglio ma se poi tu rincari la dose e linki sul tuo profilo un negozio online che vende spillette e tazze con scritte come le donne trans sono uomini difficile credere a una reiterazione dell'errore sembra insomma che con twitter rowling abbia un'incapacità di controllo del mezzo simile a quella di trump infatti a un certo punto cancella l'account poi ritorna e nel 2019 sostiene pubblicamente maya forstator la ricercatrice britannica che è stata licenziata dopo aver affermato che il sesso biologico è un dato oggettivo e le donne transessuali non sono vere donne e arriviamo al tweet del 2020 che scatena l'inferno rispondendo a una campagna includente indirizzata alle fruitrici degli assorbenti persone trans e non binary comprese rowling scrive persone che hanno il ciclo sono sicura ci fosse una parola per descrivere queste persone qualcuno mi aiuti poi storpia un po di volte il nome woman e suggerisce opinione creare un mondo post covid più equo per le persone che hanno il ciclo niente più trans nella categoria delle donne per rowling e molte minacce anche di morte per lei qualcuno le scrive che è una strega altri preferiscono cagna i fan di harry potter inventano accuse più colorite dicendo che è come voldemort gli attori che hanno trasformato in carne i suoi personaggi a uno a uno si dissociano e prendono le distanze la super femminista emma watson ermione della saga cinematografica dichiara le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la propria vita senza essere costantemente interrogate o informate di non essere chi dicono di essere a giugno del 2020 rowling pubblica sul suo sito ufficiale un saggio per fare chiarezza sulla sua posizione racconta di aver subito una violenza sessuale a vent'anni e parecchi abusi domestici qui torna Jorge non ho mai parlato prima non perché mi vergogno delle cose che mi sono successe ma perché sono traumatiche da ricordare scrive le cicatrici lasciate dalla violenza e dalle aggressioni sessuali non scompaiono non importa quanto tu sia amato e non importa quanti soldi hai fatto il mio stare allerta perenne è diventato una barzelletta in famiglia ma prego che le mie figlie non abbiano mai le stesse ragioni per odiare i rumori forti o improvvisi o il trovarmi persone dietro di me che non ho sentito arrivare non lo dico per attirare le vostre simpatie ma per solidarietà con l'enorme numero di donne che hanno storie come la mia e sono state accusate di essere bigotte perché difendono il diritto delle donne di avere spazi per sole donne rowling fa riferimento alla proposta della ridiscussione del gender recognition act la legislazione inglese così come quella italiana permette alle persone trans di cambiare il sesso sui documenti solo a fronte di una diagnosi di disforia di genere che deve essere certificata da esperti la proposta era quella di rendere possibile l'autocertificazione di genere chiunque in totale libertà può decidere a quale genere appartenere a prescindere dal proprio sesso biologico e senza alcun atto medico diagnosi o sentenza e questo per rowling è pericoloso il perché lo spiega lei ho letto che il governo scozzese sta procedendo con i suoi controversi piani di riconoscimento del genere il che significa in effetti che tutto ciò di cui un uomo ha bisogno per diventare una donna è dire che lo è voglio che le donne trans siano al sicuro allo stesso tempo non voglio rendere le ragazze e le donne nate femmine meno sicure quando apri le porte dei bagni e degli spogliatoi a qualsiasi uomo che crede o si sente una donna apri la porta a tutti gli uomini che desiderano entrare questa è la semplice verità rowling fa riferimento ai casi di chi condannato per abusi sessuali ha dichiarato di sentirsi donna ottenendo la possibilità di scontare la pena nel carcere femminile dove ha stuprato le compagne di cella i diritti delle persone trans ledono i diritti delle donne per rowling la risposta è sì e per mettere benzina sul fuoco in trouble blood l'ultimo capitolo della saga edita con lo pseudonimo robert galbraith l'antagonista del romanzo è un serial killer che si traveste da donna per avvicinare le sue vittime insomma lei dà tutto il suo appoggio alle donne trans ma il femminismo radicale di rowling è un femminismo conservatore il dirci che la biologia è un fattore discriminante per essere considerate donne ci dice soprattutto che la biologia diventa discriminatoria per le persone trans i diritti trans sono diritti umani e come tali vanno riconosciuti cosa deve accadere dunque si torna al solito problema muoia sansone con tutti i filistei perché c'è chi auspica un rogo come in fare night 451 per lei e per i suoi libri addirittura ma su questo noi non siamo d'accordo l'opera di un autore vale più della vita di quell'autore più delle sue opinioni più della sua posizione morale più persino dei suoi reati l'opera sopravvive all'autore dura di più e attraversa i secoli quanto fossero stronzi cervantes o shakespeare non ci importa affatto quando li leggiamo per quale motivo harry potter dovrebbe morire perché jk rowling ha una posizione politica non sempre condivisibile da tutti noi crediamo che i libri abbiano il diritto di vivere vita propria rispetto agli autori anche e soprattutto quando la genialità di quegli autori si sposa con posizioni che i loro contemporanei hanno considerato scomode non avremo i libri di oscar wild se i suoi contemporanei avessero pensato che la sua omosessualità fosse dirimente per giudicare la capacità artistica e il valore delle cose che scriveva e che diceva proteggiamo l'arte anche quando gli artisti non ci piacciono o non tutte le loro opinioni vengono incontro alle nostre in questo senso jk rowling è e rimane una morgana una donna abrasiva che ci fa entrare in contraddizione perché molte cose che dice ci costringono a pensare che il nostro amore per i suoi libri possa essere messo in discussione che un po quello che ci succede con tutte le persone che amiamo che qualche volta fanno delle cose che non siamo in grado di accettare e non per questo smettiamo di voler loro bene roling ha raccontato che le capita piuttosto spesso di sognare erri e i suoi amici era una cosa che non mi succedeva mai mentre scrivevo le loro storie ha detto erano talmente presenti nella mia mente cosciente che non ne avevo bisogno da quando scrivo storie su altri personaggi invece silente erri e gli altri vengono a trovarmi spesso in sogno se sfogliate l'ultimo libro di harry potter vi accorgerete che termina con queste parole andava tutto bene per anni rowling aveva pianificato di chiudere la saga con la parola cicatrice ma alla fine ha deciso di cambiare perché racconta la cicatrice nonostante fosse ancora lì era diventata solamente una cicatrice volevo scrivere è finita è fatta e forse quello che ho scritto ha fatto pensare alla gente no voldemore non tornerà ancora non avremo una seconda parte il compito di erri è finito rowling ha voluto che erri facesse pace con quella parte di sé che richiamava al male come a dire che tutti ci meritiamo una tregua dopo aver molto battagliato con le nostre cicatrici andava tutto bene è una frase che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo volto al futuro e ha assunto risvolti inquietanti ma harry potter che ha saputo fare molte magie forse potrà caricare questa frase donando le le aspettative che dovrebbe contenere ce lo auguriamo e con noi per fare la solita chiacchierata alla fine della storia della morgana di questa particolarissima edizione drusilla foer io non vorrei aggiungere nessun altro aggettivo specificazione a questo perché credo che sia giusto che le persone si auto determinino anche nel nome e nella definizione e credo che forse su questo jk rowling non sarebbe tanto d'accordo tu lo sei io sono molto d'accordo molto molto d'accordo perché sono una specie di militante per per tutti coloro che credono nell'individualità e quindi l'individualità nasce dall'individuo e quindi forse non servono troppe definizioni per così delineare un individuo alla libertà di raccontarsi di dire di passare il proprio mondo interiore le proprie visioni le proprie convinzioni e quindi direi di stare così senza troppi aggettivi senza troppe collocazioni ecco sì sì io sono sostenitrice del dell'individuo tu sai che questo è un atto di magia questo di voler attraverso la parola e quindi l'autodefinizione darsi il nome darsi l'aggettivo darsi la cornice verbale con cui il mondo deve percepirti è un atto di magia io divento quello che dico di essere questo è proprio labbra cadabra creo quello che pronuncio siamo tutti un po magici tu di sicuro sì bisogna capire quanta consapevolezza si ha di sé perché c'è la magia che riesce c'è la magia che incanta c'è la magia anche che inganna quindi nel definire se stessi trovo che la quota di visione di sé di consapevolezza di sé sia una discriminante abbastanza importante in ogni caso è una magia qualche volta vira sull'inganno in qualche in qualche altro modo invece diventa veramente un incanto e non è vero sempre questo io nella vita sono cambiata molte volte la mia consapevolezza di me ha assunto così tante sfumature che se io riguardo la ragazza di vent'anni che sono stata la donna di 30 che sono stata oggi ti posso dire sono diversa non voglio dire che non mi riconosco ma non sono più quella cosa lì per cui le mie definizioni nel tempo sono cambiate oggi ti direi che sono una certa cosa a vent'anni quella certa cosa probabilmente l'associavo a qualcosa di lontanissimo da me e nemmeno troppo aspirazionale la magia e se una magia fosse questa cosa di potersi cambiare nel tempo anche il nome se necessario a che idea mi piacerebbe cambiare il nome mi piacerebbe tantissimo perché ci sono dei periodi della vita in cui il nostro nome coincide con quello che siamo in qualcuna visione che abbiamo di noi non mi piacerebbe sì ma sarebbe meraviglioso sarebbe anche molto onesto e leale no verso gli altri poter cambiare il nome non l'idea geniale non ci ho mai pensato però ecco deve coincidere con la visione che si ha di se in quel momento anch'io guardandomi indietro avete una figura che è mutata che inciampata che si è rialzata che si è ricomposta se rimpattata poi invece si è di nuovo disfatta e certo che non è un'operazione di magia continua sul nome ci sono due cose magiche che a me piacciono moltissimo e voglio stare su questo tema della magia del nome e della nominazione perché ci sono due culture che usano il nome in modo un po particolare la cultura celtica aveva un nome pubblico e uno privato per le persone quello pubblico poteva ovviamente usarlo chiunque quello privato poiché si riteneva che l'essenza della persona il suo vero spirito risiedesse nel nome vero veniva usato solo dai familiari cioè da persone che in teoria non avrebbero avuto mai male intenzioni nei confronti di chi portava quel nome per cui potete insultare il mio nome pubblico quanto volete tanto io non sono lì mentre le persone che veramente mi amano possono pronunciare il mio vero nome e io non devo temerlo quel nome e questo per quanto riguarda la cultura celtica l'idea che ci sia anche una proiezione pubblica che però una proiezione al pericolo al fatto che possano pronunciarti anche coloro che non ti amano e sa l'esposizione mamma mia solo pensarci mi fa venire voglia di avere un nome segreto dove andare a rifugiarmi l'altra cultura è quella siriana ma in generale araba però prendiamo quella siriana specifica perché lì che l'ho imparato tu hai un nome di nascita quando diventi padre o madre per la prima volta il tuo nome cambia tu smetti di essere soltanto quello che sei in te ma ti si aggiunge padre di madre di cioè c'è un nome che definisce la tua individualità e c'è un nome che definisce la tua relazionalità cioè un nome come dire in funzione anche è importante non solo sapere chi sei ma anche di chi sei è bellissimo perché se ci pensi noi facciamo esattamente il contrario noi a un bambino riconosciamo il nome del padre invece nella cultura siriana al padre si riconosce il nome del figlio cioè lui aggiunge il nome del figlio non noi quello del padre è fantastico è una storia anche di appartenenza no ecco anche di discendenza nel senso più nobile della parola discendere da discendere che non si dice a scendere da non lo so adesso mi stai facendo venire il dubbio però stiamo nell'ambito della magia perché no no mi interessa perché siamo partiti altissimi drusia non vorrei dire sarà tutta insalita no però c'è di bello di solito si paralizzano invece tu mi sembri proprio una che perché non hai paura di me cioè la paura nella magia è fondamentale tre quarti della magia serve a difendersi dalle cose pericolose va bene ma la magia anche una storia d'ascolto di osservazione di apertura non è solo una cosa di difesa poi i maghi sono una cosa i magi sono un'altra cosa spiegami la differenza perché io di magi conosco solo i tre diciamo di presi ce n'erano tre poi in realtà ve ne erano anche altri ma quelli del presepe sono uomini che conoscono l'astrologia si muovono nella nell'armonia della della volta celeste di tutto ciò che significa l'astrologia l'astronomia il loro muoversi all'interno della magia e per il bene per la conoscenza il mago in realtà può agire anche non nel bene nel nuocere l'altro il mago è un informato un evoluto che ha a che fare con una verità che non è rivelata come lo era l'alchimia un po no il maggio invece è un luogo è un luogo di santità che posso aver paura di questa definizione di magia e santità il maggio non mi piace tanto perché comunque i concetti di bene di male sono sempre un po sfumati quando incontro uno che è convinto di stare dalla parte dei buoni io un pochino di distanza lo tengo ma noi siamo a posto nemmeno io non di te siamo convinti di stare dove fatti io ho detto finalmente mi trovo davanti una stronza come me l'altra stronza la vada meravigliosa ma io quasi non ne avevo dubbio no no ma la santità non intesa come l'omino con laurea con la barba e vestito spesso male la santità intesa come buona intenzione no che dicono come se come ben sappiamo è lastricata la strada dell'inferno come capacità di azione sulla materia il miracolo in questo senso cioè come capacità dell'uomo di intervenire sulle cose sui pesci sull'acqua su camminare eccetera ma di potere sulla mano sulla materia guarda vedere al buio ascoltare cose lontane immaginare cose che arriveranno tu sei una poteriana io sono una poteriana in questi termini io ho un grandissimo rispetto di tutte le opere letterarie che hanno che fanno breccia e che fanno successo si può dire perché significa che all'interno di queste opere letterarie ci sono tutti i temi di cui in quel momento c'è urgenza di parlare quindi come è stato hermanesse che è stata una specie di letteratura che è stata no per una certa generazione o altri libri poi scambiano i libri che hanno l'educazione sentimentale o l'educazione all'esterno no però ci sono quelli che hanno successo è la differenza dal tuo giorno pensavo che c'è un libro bellissimo di onore de balzac che si chiama serafita è un libro che ha letto balzac e sua zia e suo cugino l'hanno letto in quattro e parla di un uomo che nel suo cammino diventa piano piano una donna un libro evolutissimo ma se l'hanno letto in quattro in quattro persone ha poco senso cioè non posso che ammirare quando un libro come harry potter tut tutta la sega di harry potter a questo successo vuol dire che dentro c'è qualcosa di cui si aveva bisogno al di là poi delle collocazioni delle polemiche eccetera però l'importanza di un'opera letteraria e del successo di un'opera letteraria la risposta a quanto il mondo che legge o il mondo che recepisce o chi è spettatore della letteratura e dell'arte ha bisogno di quei contenuti sono talmente d'accordo con te che non mi appartiene affatto lo snobismo che spesso segna i gusti degli intellettuali che dicono a io non leggerò mai twilight io non leggerò mai 50 sfumature di grigio o di nero di quel che io non leggerò mai questo l'idea di ritenersi troppo alti rispetto a quello che leggono una follia ma quello ma quelli sono intellettualo di no però attenzione attenzione perché c'è una posizione in questa decisione ed è quella di come dire tenersi a distanza dalla letteratura confortevole perché se ci vanno tutti e perché si sta bene questo è il principio per cui se si sta bene vuol dire che le persone vanno dove già in qualche modo sentono una familiarità se ci pensi e ripotere una storia che noi conosciamo già cioè seguimi un attimo è c'è un orfano allevato dagli zii che ha un destino speciale ma non lo sa fino a che non giunge un messaggero dall'esterno rivelarglielo e poi a portarlo via in un altro luogo dove questo suo misterioso destino si rivelerà un potere che va educato insieme a chi sa educarglielo e poi affronterà il nemico quando si presenta il male questa storia noi la sappiamo già tu pensa luke skywalker orfano abbandonato agli estremi della galassia cresciuto dagli zii ignaro del suo destino di chi era nel padre la madre giunge messaggero dall'esterno tale obi wan kenobi che gli rivela che è un bambino speciale e se lo porta via se lo porta a insegnargli la forza e come si usa perché potente in lui questa energia la forza è un'altra forma di magia e così come r incontra il suo albus silente skywalker incontrerà il suo yoda e poi ciascuno dei due affronterà il male in un caso sarà voldemort con henry che ha paura di avere in sé il seme di voldemort perché c'è c'è quella questione lì e anche skywalker però che sente che quella creatura contro cui andrà a qualcosa di suo che poi si riveleranno luke sono tuo padre ecco questa roba qua è la stessa storia cioè un certo punto i padri hanno portato i figli a vedere lo stesso film che trent'anni prima avevano visto loro per cui ti dico è un grandissimo capolavoro harry potter ma possiamo dire che è un posto dove non siamo mai stati secondo me sì secondo me vincimi allora innanzitutto è chiaramente un libro che ha più piani di lettura come i grandi libri come l'odissea come la bibbia come tutti sorvolando il giudizio stilistico eccetera eccetera ora parliamo di quello che ho visto io innanzitutto la grande eroina di questo libro è la madre perché la madre dalla sua vita perché il figlio viva e questo ci sta la cosa importante è che lo lascia in vita con uno dei più grossi casini che un uomo possa ritrovarsi alle mani succede sempre così con le madri la fortuna degli analisti esatto certo però lo lascia con un conflitto vivo bruciante e che non andrà a migliorare nel senso nel tempo c'è veramente un'eroina io ti salvo ma non ti salvo dal male ti salvo la vita ma non ti salvo dal male e soprattutto non ti salvo dal tuo male e questa è una cosa inconsueta nella letteratura dove la madre viene sempre un po o demonizzata perché protegge perché no 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 lei con quest'atto è un atto di vera grandissima irraggiungibile magia cioè salvare la vita perché tu possa smazzarti questo casino interno in cui ti metto perché certamente eri poter è il più sfigato di tutti perché magari ha dei poteri ma cavolo ma deve avere a che fare con una parte di sé che io non vorrei insomma nel senso a quei livelli ecco poi secondo me descrive un mondo di conoscenza di formazione all'ignoto al non del tutto creduto e non da tutti un mondo che c'è ci sono i binari ma se non sei interessato all'arrivare ad informarti a capire a difenderti a conoscere certe cose il non rivelato quei binari non ci sono c'è tutto sommato c'è un'atmosfera di rispetto per tutti coloro che tutta stamenata del male delle arti scure degli unicorni e sta roba due palle ecco tutto sto mondo qua non lo vuoi tranquillo ti vai alla stazione ci sono i tuoi treni ma se scadesse nella tua vita qualcosa che ti suggerisce qualche urgenza che ti che ti brucia di conoscere ti tranquillo che ci sono anche altri binari e questo è un aspetto importantissimo del non l'avevo mai vista da questo punto di vista mi stai quasi convincendo e poi mi piace che le figure maschili sono le figure perdenti questo proprio mi fa molto piacere ma non perché perché da una sterzata un po alla cosa cioè piton che deve fare lo stronzo per quattro libri per poi capire alla fine che uno sofferente che uno lo amo dal minuto 1 1 ma capisci era chiaro che non non era tutta vera che era troppo conflittuale no poi silente deve gestire un casino di gente che lì con le civette con le robe i professori fuori come degli terrazzi cioè voglio gestire una situazione un po difficile no voldemort ragazzi sappiamo tutti in che stato è indipendentemente dalla fine che fa è un uomo che cerca di ricostruirsi perché è stato demolito dal suo male stesso e quindi si aggrappa a quello che resta del della sua vita in questo giovane bambino che ha in sé la gemma della vita che aveva questo ma va bene stai spalancando un mondo allora non è verissimo perché mi rendo conto di avere dei filtri quando leggo harry potter perché a me piacciono i libri lo confesso proprio come una decadenza del mio gusto mi piacciono la saga mi piace però ogni pagina che giro penso perché è una cosa che ha avuto così tanto successo ancora una volta c'è la storia dell'eroe dentro e non di un'eroina perché non poteva essere una maghetta perché penso che alle donne ancora oggi serva molta più magia di quanto non ne serva agli uomini secondo me non non è un libro in cui la figura maschile vince ma sì forse un problema io cioè che penso che le femmine si incarnino e si immaginino e si proiettino soltanto su personaggi femminili e i maschi su personaggi maschili mi rendo conto che ho un problema forse questo è un problema che per ovvi motivino no ma no ma soprattutto io penso che le donne sono miracolose in queste le donne in questo in questi libri sono calme per esempio si onesta adesso in quanto la strangoleresti ermione ma ermione la stangolerei perché si veste male orrenda essercente insomma mi sta antipatica però di fatto è una è un'amica fedele è verissimo manca di autoironia e va bene che si può essere tutta simpatica come noi va bene che ci sia una stronzetta così che che fa un po lo che manca di autoironia ma certo che manca di autoironia lei non è figlia di maghi pensa quanto ha dovuto difendersi in mezzo a quei a questi bambini meravigliosi con dei genitori estrosi con delle case bellissime stratificate di 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 radici di teschetti di libri lei verrà da una roba di una casa di merda tutta tutta borghesina con con la plastica sui divani certo che a disagio non è una però però è fedele è fedele anche non essendo abituata a quella visione della vita la nostra adorata mccrannit è una donna di potere è una donna che gestisce forse questo è l'unico stereotipo un po femminile che gestisce con calma con distanza senza mai era però umana però è il bridge fra lei e gli insegnanti è sempre trovo molto elegante non so come se ne pensi ma è sempre in ordine però ecco cioè io credo che questo libro invece sia costellato ad una seconda terza quarta lettura però sono le letture sottostanti che chiappano l'animo anche non cosciente di chi legge secondo me così l'hai letto molto meglio di me adesso mi toccherà rileggerlo con i filtri che mi stai regalando e poi mi chiami e mi dice guarda hai detto una cazzata dall'inizio alla fine no forse sono un po condizionata da questo scivolone turf di jk rowling nel senso che una potenziale così enorme di inclusione in sette libri bruciato perché la tua esperienza personale di violenza ti induce a credere che il rapporto tra gli uomini le donne e le loro proiezioni di sé può essere solo violento per me molto faticoso tu lo puoi pensare da individuo da individuo a questo è molto più difficile secondo me assumersi la responsabilità di dirlo quando sei stata così ispirante per così tante persone perché il peso delle cose che dici ricade sulla qualità di vita di persone che già faticano a non essere menate non essere escluse non essere negate questa cosa qui ammetto c'è una nota politica nel mio voler cercare il pelo nell'uovo in harry potter perché dentro di me mi domando com'è stato possibile che tu scrivessi un'opera talmente contraddittoria rispetto alla posizione che poi hai deciso di esprimere nella vita chissà se sia difesa allora la signora rolling è un individuo è un individuo che ha fatto una grande atto di magia come la letteratura parlando per l'appunto di magia ho letto le sue dichiarazioni passi che mi hanno un po delusa ecco cioè ho pensato che tutto questo castello meraviglioso provenisse da una mente con una visione che certamente ha però una visione diciamo più allineata con la mia questo è un atto di presunzione identificarsi nei libri è molto bello identificarsi negli scrittori ed è molto brutto ma bisogna non bisogna non puccini era un puttaniere uno che scriveva un po così wagner insomma cioè prendere in considerazione e sottolineare certe posizioni di una scrittrice è senza dubbio un atto politico se parliamo di questo adesso cambiamo argomento e parliamo di questo atto politico che non ha a che fare col libro e non ha a che fare col successo del libro ma solo con la responsabilità di una persona che è molto esposta per per un suo tipo di successo e forse non è all'altezza del suo successo come leonardo da vinci era una mente talmente al di sopra di quello che lui poi praticamente poteva fare forse a me non interessa tanto capire perché rowling ha detto queste cose quello che mi interessa capire perché queste cose hanno ancora un peso nella nostra contemporaneità cioè rowling esprime una posizione che parte da un dato di verità cioè l'esperienza del corpo femminile un'esperienza che parte dal giorno 1 nella tua vita e ti accompagna sempre ed è molto marcante perché il corpo femminile un posto dove succedono cose che nel corpo maschile non succedono ne succedono altre allora la questione è quell'esperienza fisica che tu vivi può essere determinante cioè totalizzante rispetto all'identità che tu puoi esprimere oppure no perché quello che le trans escludenti alla fine dicono è esattamente questo senza quell'esperienza tu non hai la pienezza della donnitudine non puoi dire sono una donna devi specificare che se una donna trans dove trans vuol dire mi è mancata l'esperienza del corpo dunque non è solo una storia di linguaggio e soprattutto io credo una storia emotiva emozionale quindi il grosso problema secondo me che c'è la base di tutto questo è che si ha l'esigenza di definire mettere dentro uno scaffale come ci sono nelle librerie no letteratura letteratura russa l'esperienza emotiva di qualcuno e l'esperienza emotiva individuale è intoccabile è intoccabile perché è indecifrabile perché ha delle nuance e ha dei motivi e ha dei dolori ha delle gioie delle aspirazioni delle visioni di sé che sono intoccabili quindi qualsiasi cosa chiunque dica qualcosa di un genere in qualche modo fa una violenza all'individuo certo che non sono d'accordo una donna che si opera e quindi fa un percorso doloroso faticoso emotivamente impegnativo colmo però anche di una convinzione e di una e di una tensione ecco certo che avrà delle caratteristiche diverse in ciò che gli succede nel corpo no perché passa da un corpo a un altro corpo ma in questo la ruling secondo me è stata scarsa che necessità c'è di definire cosa succede in un corpo il corpo è un contenitore noi lo si può è un contenitore emotivo è un contenitore emozionale è un contenitore spirituale io domani se mi voglio diventare una stambica e qualche modo lo divento è chiaro che non sarò più cosa ero cosa sono stata eccetera perché la mia tensione emotiva è a diventare io reclamo lo stesso atto di magia decidere io che il mio corpo può cambiare e che questo non cambia la definizione di me di quello che io sento di essere tra me e chiara tagliaferri che siamo entrambe nate femmine c'è ci sono due esperienze di corpo completamente diverse non soltanto perché siamo diverse esteticamente ma perché abbiamo proprio storie di corpi differenti ecco è molto difficile per me immaginare che qualcuno possa pensare di ricondurre la mia identità la mia esperienza del corpo e che questo mi accomuni ad altre donne perché siamo davvero tutte diverse tutte perché io stessa nel mio corpo ho vissuto periodi ed esperienze talmente differenti cioè un corpo che non ha mai attraversato la malattia se non hai mai avuto un tumore e se non gli sei sopravvissuta come è capitato a me è chiaro che per me vivere quel limite vedere il mio corpo attaccato da qualcosa che aveva auto generato ha cambiato radicalmente il mio rapporto col corpo ma non ha cambiato la mia identità l'ha arricchita ha aggiunto un'esperienza ma non può definirmi quell'esperienza lì io ho paura di chiunque cerchi di dire il corpo dice chi sei no io dico cos'è il corpo il corpo non dice chi sono perché il corpo è troppe cose e in troppe variabili sai cosa avrei un giorno non dover parlare più del corpo non lo so se questo sia possibile perché io ho l'impressione che non parliamo di altro io proprio una roba che per me il corpo è un campo di battaglia perché tutte le volte che esprimo un'opinione politica il mio corpo è un bersaglio da parte dei miei detrattori si dice body shaming ma il bersaglio la persona però il corpo il corpo è un punto debole per me non perché sia debole io nel corpo ma perché per gli altri è un bersaglio io posso parlare del mio corpo io posso parlare dei corpi che ho io posso parlare del corpo degli altri ma se io prescindo dal fatto che il corpo sia abitato da qualcosa che ha un valore infinitamente più enorme del corpo il corpo è uno strumento che ci fa camminare ci fa avere le esperienze racconta cosa so cosa siamo racconta anche i nostri gusti racconta le nostre fragilità nei gesti racconta le nostre arroganze nella modalità tutto bene ma quello che racconta non è corpo e anima cioè è proprio oltre il corpo quindi io a me piacerebbe che se murgia dice una cazzata qualcuno dicesse ma guarda che testa di cazzo è la murgia o se la foer dice una bischerata nessuno bebe guarda quella brindellona orrenda ora per non dire travestito o altro cioè è importante è il pensiero il nostro corpo serve per poter dire un pensiero se le persone usano il corpo per attaccare le altre persone è perché il corpo un punto di fragilità per tutti se non non è venito come un punto debole nessuno lo toccherà non è l'aspetto cellulare che chiaro è chiaro è chiaro come una roba che a me ne rosisce tantissimo non vorresti il mantello dell'invisibilità tu vorresti per il corpo questo no no dai no sennò come faccio a dirti chi sono attenzione perché stai negando tutto quello che hai detto fino a questo se io non avessi uno strumento in cui ti faccio vedere quello che sono dentro perché dovrei avere un mantello del non sto negando io vedo il corpo come un luogo di un cielo il mantello dell'invisibilità e internet perché attraverso internet e io raggiungo ed entro in relazione con persone i cui corpi non ho mai visto però alla fine scusami ma un po mi dai ragione possono entrare in contatto col corpo possono vedere le persone posso narrare qualsiasi cosa di me ma io sono nella merda comunque se sono una persona nella merda quindi è un mantello dell'invisibilità però sotto il mantello dell'invisibilità uno che soffre soffre uno che invidia invidia uno che sta bene sta bene l'invisibilità è solo un fattore ottico così anche il corpo uno strumento di invisibilità perché chi vede me spesso non vede oltre me e questo appunto voglio dirti che spesso le persone con cui parlo su internet non hanno mai visto il mio corpo sanno di me molte più cose molte più verità del mio vicino di casa che mi incontra tutti i giorni ed è convinto che siccome mi vede mi conosce lo so però lì è una scelta di campo è una scelta di campo e su questa scelta di campo io ti saluto e ti ringrazio per questo scambio che spero continui anche dopo questa morgana perché raramente mi è capitato di parlare in modo così profondo con qualcuno che conosco da 40 minuti 40 45 forse ciao e grazie grazie a te oh finalmente io te l'avevo detto che devo dire che devo dire oh mio che bello ragazze è andata benissimo si detto io ci sarei stata un'altra ora e comunque lei ha detto una cosa che ti dicevo sempre anch'io che è la mamma di harry potter la maga più maga di tutti perché ti salva con l'amore sì però anche lì chi può dire se ti salva la magia o ti salva la maternità ti salva la maternità grazie alla magia a proposito del linguaggio no allora io credo che ci sono dei momenti in cui storici in cui necessario ottimizzare il linguaggio ed è giusto per esempio usare il termine identità di genere sono d'accordo però che cos'è un genere definiscimi genere e la costruzione sociale di aspettative intorno al sesso quello che la società si aspetta da te in quanto maschio e in quanto femmina ok io preferisco usare identità perché identità di genere come dire mi porta un carciucco col pesce cioè no nel senso l'identità di genere vuol dire che non sei tu a decidere come rappresentarti ma è il contesto che ha già deciso come bisogna essere ma infatti noi diciamo l'entità di appartenenza e quando ti sposti il contesto ti sanziona e ti dice vabbè ma non fare il maschiaccio perché il simbolo che stai esponendo è un simbolo del maschio non della femmina vabbè ma non frignare non fare la femminuccia perché il comportamento che stai assumendo appartiene all'altra rappresentazione di genere io sogno un mondo in cui maschi possano piangere esattamente come le donne incazzarsi senza che nessuno dica loro che sono nel posto sbagliato io mi sogno un luogo dove ogni identità è un luogo è il luogo di quella persona è proprio il valore dell'individuo che non è detto chiaramente anche prima che non era gruppabile in un genere avresti dovuto fare così no questa specie di censura che si fa poi la censura è una roba che si agisce solo sulla verità quindi certifica la verità in qualche modo bisogna andargli un po in culo a questo tipo di censure noi ci andiamo un po sì le morgane fanno esattamente questo e devo dire che sono molto contenta di aver potuto chiudere questo ciclo delle donne che non hanno bisogno di sposare un uomo ricco con te perché hai detto un sacco di cose che in queste in queste puntate io e chiara abbiamo cercato di dire molte volte grazie è stato bene io guarda cosa faccio a tutti coraggio e guai a chi lo usa più più nuda di così e ora che nessun feticista le raccolga questa era morgana sono io l'uomo ricco i testi che avete sentito sono scritti da me e da chiara tagliaferri con la regia di guido bertolotti morgana torna a settembre con una nuova stagione e anche con una super sorpresa noi lo sappiamo lo saprete anche voi ma basta ornella ma ancora ma mi lascia in pace ma sì ho finito adesso finito adesso sì come è andata è andata bene è andata bene perché ho parlato finalmente con una donna intelligente una donna sensibile è stato molto commovente guardi perché si è stato commovente io non sono una affettiva di merda come lei ecco mi fa piacere avere scambio con persone leali e persone persone che vogliono parlare di cose importanti non di piselli o di cotechino lei sa benissimo che il cotechino una delle tre cose che non mangio e mi copre il cotechino ma una dispettosa proprio ecco altro altro che inclusione lei andrebbe andrebbe esclusa da dall'universo con un con un cannone tipo donna cannone no è adorabile la moglie si sembra lì per lì un pochino un pochino un po raffa però invece è una donna molto sensibile è una donna un tipo di donna che mi piace va bene una donna sensibile intelligente che vuol parlare delle cose in profondità non come lei che finisce sempre per darmi della cretina della strada sempre offendermi ecco l'ha fatta la spesa sì bene ha preso detesivi bene hai cotto un fioc non glielo ricordato e vabbè torni a prendere e va bene ornella non fa niente dalla mattina alla sera ma per cortesia ma me ne porti una decina dei suoi se così pericolo è va bene va bene mi faccio tornare a firenze ornella non ne posso più anzi lei non si faccia trovare in casa va bene per due giorni le do libero va bene ornella vi faccio stare addosso con questa sensazione bella di questa bella chiacchierata gente in gamba tutti i tecnici precisi giovani carini insomma una meraviglia ornella io sto così bene lontano da lei sì arrivederci cara arrivederci